Amici e amiche di Peppe Hitech ma bentornati sul canale, quest'oggi vedrete una partita con un altro team, grazie ai miei compagni di squadra ne ho conosciuti altri, ho giocato con loro, mi è piaciuta la partita come è andata così ve l'ho portata sul canale, ma prima di mostrarvi la partita o meglio prima che vediate la partita saluto Lorenzo Menghini che mi segue e ti saluto con tutto il cuore, ora beccatevi il video, ciao e a presto. Pure se ci buttiamo su stadia alla ricerca secondo me verrà un botto di gente, la proprio il Sils, proprio il Sils, ok, ecco, sono entrato nell'unica stanza dove non ci sanno armi, si bene grazie, grazie, non è peggio del nienda, ah ok che usci da tre colpi, la pistola lo scudo però se iniziamo già da sfigati la partita non è tanto bello, però ti dona lo scudo io vado avanti io ti seguo che c'è il mitraglione, in caso qualcosa allora, se no sbaglio la gente è andata a sinistra quindi, prima di andare a destra perché me ne serve un'arma si oh, mi hanno sparato da dietro con un cecchino, per la miseria, già nel cecchino nel secondo te qua c'è l'arma perché oggi c'è l'analogico da dove sta quello che ha sparato, non lo vedo manco più ho posato lo scudo oh, sta qua, sta qua, sta qua, sta qua contatto stava a fuggire a sinistra uno a terra, morto oh, ok un altro ucciso che sta l'altro che stava a fuggire dalla casa grande aspetta che devo cambiare arma perché ho finito le munizioni no io devo ricaricare ok ci sono al minimo altre due ok eh, uno sta qua amico morti, rimani andato ok, se ci sono piastre buono, grande niente piastre no io ne posso dare due ok eh, dammi ah, grazie perché sto proprio a zero Gigi è tornato, eh oh, sparano dietro di noi dai palazzoni eh sì, però mi sembra non sta ma sta pure qua la gente eh ci abbiamo vicino allora sì, siamo circondati oggi siamo fortunini, fortuneschi oh, ce l'ho uno qua alla mia sinistra qua comunque non sta allutato del tutto ce n'era uno qua, me ne portava eh, visto, stava sparando giusto eh, perciò sei illuminato ma non a me però qualcun'altro ancora quindi c'è pure qualcun'altro eh, lui Gigi ti abbia fatto fuori oh, sei paracatutato da tu o là dove? ah c'è altra agenda a sinistra contatto craccato cioè sono in due scendiamo giù da qua a terra raga uno a terra simone sicuro eh, l'ho buttato prima ah, peccato vabbò, dai ti manientato? ti è uscito scritto e detto? ah, ok sì, voglio eh, se mi fate uccidere qualcuno pur a me io li ho craccati solo a tutti quanti ancora ne riesco a terra qualcuno e noi ci prendiamo i meriti vabbò, non fa niente è importante arriviamo a meno no, a meno nel video si vede che li ho colpiti eh ma se vuoi ti fatto le immagini no, eh, perché le prime partite visto che erano otto anni che non giocavo a Call of Duty veramente facevo così né colpivo né niente arrivavo a fine partita ho vinto due due Warzone con zero uccisioni e zero punti sto prendendo un OV va, vai eh, se vuoi te lo piglio pure io eh, prendetelo piena attacca a grappolo secondo me eh, buono, vengo con voi no, no, sono stato io giusto a girare mi sono buttato per la finestra ho fatto prima tu dove le lasciate? mi venghi andò buongiorno saliamo su? saliamo qua è là c'è, dovevo l'era lancio d'equipaggiamento eccolo lancio d'equipaggiamento eh eh non è non sono ne uno solo ed è sopra ecco che sta sta la taglia ed è là in movimento eccolo la taglia ahi si è lanciato dal palazzo li andiamo a pigliare prima di prendere l'equipaggiamento ma se stanno a lanciare l'equipaggiamento? si, si vedi guarda stanno andando sulla caserma come voleva come voleva andiamo 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 se no capite cambio posizione usciamo eccolo craccato io ho distrutto tutte le corazze senza corazze vede camera oh ce n'è ce n'è un altro sopra attento e ce n'è un altro nel primo piano l'ho colpito vanno è morto è pericoloso tutti dentro un po' pericoloso tutti dentro non mi piace a terra morto uno team eliminato no 2 2 2 2 team manientato ti manientato si ok che cosa c'era e mo ci andiamo a prendere ma non ci posso prendere mo l'equipaggiamento si mo si non stiamo coperti avete del gas in arrivo quasi quasi eh fammi ricaricare ecco preso oh c'ho pure quasi stanno piastre colpi demolizione al massimo non lo so dove stanno ben precise non li vedo vediamo se mi ripingono oh oh da dove si mo mi hanno sparato qua a me cambia posizione ah si le ho vissi sul tetto mi sa forse ne ho visto correre uno hai sparato si 9 metri o sotto sopra ragazzi controllate pure le scale il ping me lo ping me lo ping a 9 metri qua a destra qua soldato nemico in arrivo stanno ritornando quelli la che sono morti mi sa ok c'è una c'è una claymore sotto le scalette lo so lo so sto aspettando che scendano sta in destra a me sta in destra a uno ok io controllo le scale non me li pinga più ho appena atterrato un altro ho appena atterrato un altro in destra sanno a più il lancio si stanno prendendo eccolo a terra non me li pinga però già si sono presi il lancio allora si eh controlliamo bene le scale lei l'ha l'ha rianimato la claymore la c'è sempre ok chiudiamo pure la porta che è in caso qualcosa abbiamo pure la porta sentiamo la claymore e poi possiamo girarci che chiedi mo? non li vedo sono scappati? vai arriva un elicottero pure sono fuori o stanno qua sotto alle scale aspettarci nell'atrio dove sta il camion non lo so non c'è nessuno a quello che vedo io il pinga d'oro non mi dice niente qua il senso luca sali sali fidati ma se l'icottero è il raggio marcato grande a terra non sono morti ora sono morti mi sparano da destra sempre da destra mi sp... da dove? porca miseria non mi vedo non lo so sono quasi morto però io oh la miseria ho le piastre se ti servono ma luca attenzione che non va avanti no eeeh sta gente là dentro sta gente da dove sono entrato io e pure su una torre stavano se usciamo da qua andiamo a destra Simo ce la facciamo perché non ho capito dove stanno stanno un po' ovunque e allora se usciamo a destra ce la dobbiamo riuscire a fare posseggiamo i garage quanti soldi vaiù quanti soldi quello è il problema noi ci abbiamo 20.000 in due eh ma dobbiamo avviarci anche verso la safe sì infatti sì però stava troppo agenda là non capisco eh ma questi muoio paura sempre ci beccano alle spalle e che questi muo pure loro verranno di qua forse gigi ecco ecco ti pareva che non mi avevano ancora messo la taglia di solito fanno inizio la partita wow preparati a combattere non ci credo ci hanno non ci sa una mancano 10 secondi come lo vedi quel negozio ne lo vedo un po' troppo centrale compagno ok sta tornando c'è un'arma nel capannone dove stavamo prima forse ce n'era una oh no no oh oh adesso sta venendo la taglia sì dove sto io sto venendo oh eh beh hanno preso la macchina eh non è possibile stava uno a piedi da solo allora io ce li ho qua eh Peppe ah no ah eccoli là in fondo e guarda stanno fightando là contatto speriamo che mi sembra che sono in due che stanno fightando contro una macchina no sì sì sono due squadre eh Simo se li prendiamo qua che stanno all'orabo con la safe a culo e gli facciamo l'agguato sì 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 ecco le vedi io lo vedo io 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 beh 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 aspetta ok team ha nientato sì ma sta un'altra squadra mi sa attenzione hai visti ah sì ok grande ragazzi vai andiamo oh sta allo shop se mi volete rianimare sì sì mo andiamo subito altrimenti lasciate stanno che sto a far lavare al piede adesso no 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 ce la fai tu sì da solo ce la fai no voglio prendere pure io autovia no avvia autoress voglio prendermi sì 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 pigliato 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 kit di rianimazione e delle piastre si ma dove ho deciso a questa dove ho deciso a questa no sta fuori safe no sta fuori safe ci stanno delle piastre qua però se vieni qua da noi da te ci si fuori safe a questi e ora stanno fuori safe aspetta vieni qua che ti chiami con il bordo ti ho preso il modello ti lancia lo lancia lo lancia lo lancia così quando arriva se lo prende io già sto qua ragazzi dobbiamo andare verso queste casette qua eh mi sono preso fantasma ho carico massimo prenditi le piastre eh bravo la cassa di munizioni non ce la facciamo a prenderla eh no si si ce la facciamo eh prendiamola prendiamola vai vai prendi tu cassa di munizioni presa ok vai caricate ok ok ce la facciamo a me cioè andiamo in quelle case che vi ho indicato io dove c'è il ping arancione oh da dietro da dietro da sopra l'aereo mi hanno craccato stanno venendo qua oh è pure da sinistra qua stanno qua stanno qua stanno qua eccoli eccoli ce l'ho io avanti a terra morto sembro mi si impalato mi trovo ma che ma che no sono in tre ah no l'ho atterrato si muovaccano ormai 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 vattano eh lo so sali là sali là sali là no un'altra volta mi ero rianimato se non se n'era accorto maledetto l'avrei ucciso io sali attiva la taglia ok il gulag si vengono esatto il gulag è pure chiuso eh no si non posso farmi il gulag no c'è il gulag aperto si per dieci secondi ma me ne vorrei andato all'altro lato restamente tanto che non bene oh eccole eccole sentono i passi o no fermati eh ragazzi aiutatemi perché non sai ma facciate a destra un po' fa vedere si stanno al limite da sinistra stanno a fare da sinistra stanno con i silenziatori perché mi tiene la sola e salca sotto salca sotto eccolo furgoncino bianco sul muso del furgoncino bianco alzati alzati eccolo grande ah ecco l'altro oh stanno spavendo da sinistra mi sa ultimo a cortettini eh i finestri eh oh non ti esporre così c'è un in destra un in destra si ah sta lo shop sta lo shop sta lo shop allora è suscitato l'amico eh spero con calma con calma come procede ragazzi bene siamo ottavi per il momento ah buona ma bella ah dalle collinette alla tua destra ah no da sotto ora ah gg hai parlato siamo arrivati ottavi si ma perché sei venuto 6 4 8 ma tutti questo 6 simone si questa la pubblichiamo abbandono volete vedere la vittoria no no ma come vedere mi cammo vinti nuvi ah ok ah 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 ma che è questo